Mentre tutti pensano alla Brexit e a ciò che succede nel Regno Unito, la Commissione europea cerca di rilanciare il processo di integrazione con una proposta coraggiosa ma al contempo timida. Da un lato infatti propone di passare al voto a maggioranza qualificata in materia fiscale, uno dei pochi temi su cui ancora si decide all'unanimità e su cui il Parlamento ha solo un ruolo consultivo. La Commissione propone di usare una delle clausole passerelle del Trattato di Lisbona per passare alla procedura legislativa ordinaria, quindi voto a maggioranza qualificata tra i Paesi membri e ruolo decisivo di colegislatore del Parlamento europeo. È una proposta che permetterebbe di sbloccare molti dossier, di fare una migliore lotta all'evasione, all'elusione fiscale, alle frodi fiscali, di armonizzare meglio e far rendere più semplice il regime dell'IVA e delle accise a livello europeo, semplificare le procedure di rendicontazione da parte delle imprese in tutta Europa, rendere possibili le tasse sulle transazioni finanziarie speculative, sull'economia digitale, rilanciare gli investimenti in Europa e così via. Una serie di misure che la Commissione ha stimato porterebbero un beneficio enorme all'economia europea, sia in termini di maggiore gettito fiscale, sia in termini di aumento degli investimenti oltre il 3% e di crescita oltre l'1,2% del PIL europeo. Quindi risultati straordinari. Qual è allora la debolezza di questa proposta? Che prevede di essere realizzata in quattro tappe, l'ultima delle quali entro la fine del 2025, cioè addirittura oltre la prossima legislatura europea che va dal 2019 al 2024. Ecco, un orizzonte temporale così lungo è inaccettabile per i cittadini europei. Se ci sono da trarre così tanti benefici da una maggiore integrazione in materia fiscale, non c'è nessuna ragione per aspettare addirittura sei anni per poterli finalmente cogliere.